Non ci si deve attaccare alle cose esteriori. O figlio, molte cose occorre che tu le ignori, considerandoti come morto su questa terra, come uno per cui il mondo intero è crocifisso. Molte altre cose occorre che tu vi passi in mezzo senza prestare ascolto, meditando piuttosto su ciò che costituisce la tua pace. Giova di più distogliere lo sguardo da ciò che non approviamo, lasciando che ciascuno si tenga il suo parere, piuttosto che metterci in accanite discussioni. Se sarai in regola con Dio e terrai conto del suo giudizio, riporterai più facilmente vittoria. Signore, a che punto siamo arrivati? Ecco, per una perdita nelle cose di questo mondo si piange. Per un piccolo guadagno ci si affatica e si corre. Invece un danno spirituale passa nell'oblio e a stento troppo tardi si ritorna in sé. Ci si preoccupa di ciò che non serve a nulla o a ben poco. E ciò che è sommamente necessario lo si lascia da parte con negligenza, giacché l'uomo inclina tutto verso le cose esteriori e beatamente vi si acquieta se subito non si ravvede.